Luca Conta ho provato a recuperare, sono riuscito ad accorciare facendo 4-2 ma poi la partita era incanalata su quei livelli una volta che hanno smesso di pressare e di spingere, si è di nuovo la partita venuta dalla nostra parte e infatti è finita poi con il risultato che conoscete.